Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, eccoci qui, buon primo maggio, anche oggi ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio. Si è concluso ieri sera il 32esimo turno di campionato ma non c'è un attimo di pausa, come sapete si tornerà a giocare anche in settimana, c'è il turno infrasettimanale, si doveva giocare domani sera, poi con lo spostamento della partita del Napoli si giocherà mercoledì, la prima partita sarà alle ore 18 e allora come di consueto oggi video di analisi delle varie partite di questo 33esimo turno di Serie A, domani video sulle top 11 e poi mercoledì. Solito video con i nomi consigliati, sconsigliati e scommesse, da domani ovviamente riprendono anche le live sia qui sia sulla piattaforma Viola. Prima di continuare però mi raccomando se non l'avete ancora fatto, like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis, gratis come scaricare l'app di OneFootball grazie alla quale possiamo restare sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il nostro fantacalcio. Trovate il link in descrizione, è gratis, su OneFootball abbiamo la possibilità anche di personalizzare la nostra dashboard per ricevere esclusivamente le notifiche che ci interessano davvero e poi schede giocatore, dati, statistiche, insomma tutto quello appunto di cui abbiamo bisogno per il nostro fantacalcio. Link in descrizione, gratis. Grazie mille. Adesso invece ci andiamo a spostare su Fantalab. Andremo a vedere appunto le 10 partite di questo turno infrasettimanale. Due premesse importanti. Prima, fondamentale, gli indici di schierabilità che vedrete in questo video come sempre sono quelli dell'algoritmo di Fantalab. I miei come sempre usciranno invece il mercoledì mattina in questo caso, giocandosi appunto mercoledì. Li troverete sul sito, basta avere la premium e avere un abbonamento su uno dei miei canali, qui YouTube o piattaforma Viola. Altra premessa importante, è da così poco tempo finita la giornata scorsa che gli squalificati non li troverete ancora nelle varie formazioni che andremo a vedere ora. Quindi io ora tra poco, prima di continuare vi dirò chi sono gli squalificati, in modo che poi non vi andiate a confondere partita dopo partita. Detto questo, andiamoci a spostare su Fantalab, di cui trovate il link anche qui in descrizione. Eccoci qui ragazzi, partiamo subito da Talanta Spezia, ma prima di continuare mi raccomando gli otto squalificati, perché qui come vedrete non sono ancora stati aggiornati, abbiamo Quagliata, che vabbè al Fantacalcio ci interessa poco, Tomori e Romagnoli, quindi già due assenze per le vostre difese abbastanza importanti, Strefezza, Matic, Pinamonti, Kiriakopoulos, Maxime Lopez, ok? Ricordatevelo quando andrete a vedere queste formazioni. Partiamo allora da Talanta Spezia. Partiamo subito dallo Spezia, perché è uno Spezia che fa davvero fatica. Anche l'ultima partita, devo dire, io l'ho vista, ha perso ma si è mangiata dei gol nel primo tempo clamorosi. Soprattutto Kovalenko ha avuto due occasioni clamorose, la prima su assist di bastoni, la seconda a un metro dal portiere avversario, da Di Gregorio, allo Spezia sta anche un po' girando tutto male. E questa partita a Bergamo sicuramente non cade nel momento più facile, perché l'Atalanta è una squadra che ha iniziato, dico ha iniziato perché l'Atalanta quest'anno ci ha abituato ad alti e bassi, ma l'Atalanta ha iniziato a fare punti, a fare punti anche magari senza fare delle prestazioni eccellenti. Abbiamo ritrovato Zapata, vedremo se riuscirà a dare continuità. In questo momento è lecito aspettarsi che parta lui e non Hoylund, se Gasperini deciderà di giocare con una punta. Per fortuna, per fortuna, avremo la possibilità questa volta di vedere le ufficiali dell'Atalanta. Sappiamo che è un grosso vantaggio, dato il grande turnover che Gasperini solitamente fa, soprattutto nella metà campo offensiva. Al di là di questo possiamo dire che l'Atalanta è 6 favorita, l'Atalanta ha 3-4 nomi ormai che abbiamo individuato, su cui punterà il fantacalcio. Penso alla punta, Zapata, Hoylund, questo lo vedremo mercoledì, Coppemainers, che si schiera sempre, uno dei due esterni, in questo caso Zappacosta, è il più accreditato a fare qualcosa in chiave bonus. E poi, se c'è bisogno, si può anche puntare in chiave modificatore su uno Scalvini. Mentre invece convincono a metà tutti quei trequartisti che stanno un po' così giocando tra le linee in quest'Atalanta, che però non dà segni di continuità in quel ruolo lì. Pensa a un Pasalic che fa una partita bene e ne fa tre male, penso a Ederson che invece manca dal gol da tanto tempo, lo stesso Bogat, molto discontinuo, insomma, lì secondo me quest'anno è mancato qualcosa di importante. Da un punto di vista tattico però Gasperini sembra in questo momento optare più per la scelta dei due trequartisti e della punta. Ovviamente, sia che abbiate Zappata, sia che abbiate Oilund, anche se non dovessero partire titolari, il mio consiglio è comunque di schierarli con copertura. Passiamo poi allo Spezia, perché secondo me in casa Spezia quello che farà la differenza o meno sarà l'eventuale recupero di Inzola. Se così non fosse, lo Spezia per me faticherà molto a trovare la via del gol a Bergamo. Al di là di questo, comunque, Bastoni non sono d'accordo io sul 5 e mezzo che gli è stato dato, anzi, nel primo tempo, ripeto, aveva messo davanti al portiere Kovalenko, poi se Kovalenko ci abbatta il tiro non è colpa di Bastoni. Ecco, quindi Bastoni è comunque un nome su cui si può puntare. Poi, al di là di Bastoni, si inizia a far fatica, perché anche Verde non ha dato segni di continuità. Stessa cosa si può dire di Giazzi, di Shomurodov. Insomma, in questo preciso momento, al di là di Bastoni, e eventualmente, ovviamente, di Inzola, qualora recuperasse, secondo me in casa Spezia, in ottica fantacalcio, meglio guardare altrove. Passiamo poi a Juventus-Lecce. Una Juve che conferma i suoi problemi offensivi. Qui, secondo me, davanti rivedremo Vlaovic probabilmente dal primo minuto. È una Juve che fa fatica, perché in questo momento non ci sono giocatori così brillanti da poter trovare quello spunto che va magari in qualche modo a oscurare i problemi di gioco in chiave offensiva. Milik e Vlaovic non sono giocatori di questo tipo, o meglio, Vlaovic lo sarebbe anche, magari su punizione, magari, però non è assolutamente al top per quanto riguarda la condizione fisica, e aggiungo anche mentale. Chiesa e Kostic. Kostic è in flessione dopo un bel campionato. Chiesa, invece, deve ancora ritrovare lo smalto di un tempo. Di Maria non sappiamo se sarà della partita. Insomma, è una Juve in difficoltà lì davanti. Allo stesso tempo, invece, dietro, qualcosina si è messo a posto. Danilo, al di là dell'errore dell'ultima giornata, è comunque un nome che solitamente porta garanzie. Dovrebbe tornare Bremmer, Chiesa ne fa bene. La Juve è la solita Juve, cioè da metà campo in giù ci si può fare abbastanza affidamento, da metà campo in su forse meglio guardare altrove. Allo stesso tempo, però, nel Lecce mancherà strefezza. A differenza, ovviamente, di quanto è segnato qui. Strefezza è squalificato. Il Lecce si è fatto i conti giusti, ok? Perché? Perché ha detto, io voglio strefezza nelle partite chiavi per la salvezza, quindi hanno gestito quella munizione come volevano loro. Strefezza il giallo. Adesso se l'è preso salterà la Juve, ma poi tornerà la prossima. Senza strefezza, il Lecce, a mio parere, farà molta fatica. Io questa la vedo proprio una partita da under. Cioè, per me qui, più di due gol è veramente difficile ipotizzare, perché sono due squadre che fanno molta fatica a trovare la via del gol, e allo stesso tempo, difensivamente, hanno comunque dei nomi garanzia. Nel Lecce, penso a Baschirotto. Non fatevi influenzare dal 6 del voto live, perché ad esempio la Gazzetta gli ha dato 7. Infatti, chi usa redazione Italia si è trovato il 6 e mezzo di Baschirotto. Umptiti arriva da un 7. Insomma, è una difesa solida, ultimamente, quella del Lecce. Ecco, non dovrebbe prendere delle imbarcate, e d'altro canto la Juve non è squadra da goleade. Quindi, vuoi un po' la stanchezza? Vuoi un'infero settimanale? Vuoi problemi offensivi? Qui potrebbe uscire fuori una partita da under. Puntiamo, magari, maggiormente sui giocatori difensivi delle due squadre. Passiamo, poi, a Salernitana-Fiorentina. Una Salernitana che ha fatto una mezza impresa, quella di non far festeggiare, appunto, il Napoli, con una giornata di anticipo. Dià si conferma al giocatore, ormai, da schierare, a prescindere dall'avversario, e quindi, anche contro la Fiorentina, assolutamente si può schierare. Mazzocchi, Mazzocchi bene, arriva da un bel 6,5, anche lui ci si può assolutamente puntare, è tornato a livello fisico quello del periodo pre-infortunio. La Fiorentina è una squadra che, al di là del 5-0 contro la Samp, che, secondo me, fa poco testo, è una squadra comunque in salute. Il problema della Fiorentina al fantacalcio è che non sappiamo mai chi giocherà. Vi faccio un esempio molto semplice. Io, la scorsa giornata, nei vari nomi consigliati in top 11, consigliai Terracciano, perché mi fidavo del portiere della Fiorentina, e così è andata. Però poi Terracciano non ha giocato, ha giocato l'altro, e Barak, perché mi aspettavo che potessero arrivare diversi gol contro la Samp, soprattutto negli uomini dietro la punta. E così è andata. Il problema è che poi non ha giocato Barak, ma ha giocato qualcun altro. Quindi, diciamo che nella Fiorentina è difficile azzeccare i nomi, ok? Quello che però possiamo dire è che sicuramente i due terzini della Viola, in questo momento, sono un punto di forza. Biraghi a sinistra, Dodò a destra, sono due nomi su cui si può assolutamente puntare. Nico González così così, cioè dal punto di vista tattico è giocatore fondamentale per la Fiorentina, ma il fantacalcio bonus fin qui pochi. E poi la punta, Jovic arriva da due assist e mezzo, possiamo dire, Cabral dovrebbe essere titolare contro la Salernitana. Quindi, sicuramente, Fiorentina sulla carta ha qualcosa in più rispetto alla Salernitana, ma la partita contro il Napoli ci dimostra che la squadra di Sousa non si arrende contro nessuno. Quindi potrebbe uscire fuori un match abbastanza equilibrato. Passiamo poi a Samp Toro. La Samp ormai ha davvero poco da dire, sta solamente contando le giornate che mancano alla retrocessione matematica di quest'anno. Qui, cosa dire? Allora, Samp Torino potrebbe anche essere una partita con pochi bonus, nel senso che il Toro ormai ci ha abituato ad avere una difesa abbastanza solida. Dico abbastanza perché secondo me quest'anno al Torino è mancato soprattutto un portiere affidabile al 100%. Io ricordo il Milinkovic-Savic dell'anno scorso era un portiere che dava molte più garanzie rispetto al Milinkovic-Savic di quest'anno. Poi, due gol contro l'Atalanta si possono anche prendere. Il gol di Zapata comunque è un gol di pregevole fattura mette a sede Reshures rientra col destro la mette sul secondo palo insomma non è un gol banale. La Samp non credo che abbia le stesse armi dell'Atalanta qui potrebbe veramente uscire fuori una partita anche bruttina secondo me da vedersi se si vuole provare qualche nome nella Samp è difficile uscire dai soliti a Ugello Gabbiadini anche se ultimamente Gabbiadini male Lerì occhio perché ha avuto qualche problema fisico quindi anche lui da valutare nel Torino Sanabria al suo anno è arrivato in doppia cifra si schiera Mirancuk si schiera e con l'infortunio di Radonic a questo punto uno tra Caramò e Vlasic giocherà sempre quindi questi sono gli uomini sicuramente un po' più offensivi su cui si può puntare di Schurse mi fido ancora single o senza modo può essere un bel nome passiamo poi a Lazio-Sassuolo una Lazio che era partita bene contro l'Inter salvo poi calare nel secondo tempo il Sassuolo arriva da una bella vittoria in rimonta in 10 grazie soprattutto all'ingresso di Berardi qui ovviamente anche la formazione non è aggiornata perché Berardi ora sta bene quindi sarà della partita Pinamonti è squalificato quindi qua ci sono un po' di cose che poi il sito dovrà dovrà aggiornare noi siamo già più avanti ok perché il primo maggio noi qua si lavora anche al fantacalcio secondo me questa è una partita sulla carta della Lazio cioè sarei molto stupito se la Lazio non ci sarà Romagnoli occhio anche lui è squalificato sarei molto stupito se la Lazio non facesse i tre punti contro Sassuolo poi occhio perché il Sassuolo contro le grandi squadre ci ha abituato spesso a fare delle belle partite quindi potrebbe anche uscire fuori anche un match vivace con gol da entrambe le parti però al di là di questo io credo che puntare su Zaccani Immobile Luis Alberto Felipe Anderson Milinkovic Savic sia sempre giusto poi per dire anche nella partita contro l'Inter persa comunque è arrivato l'assist di Luis Alberto e il gol di Felipe Anderson a dimostrazione che questi cinque sono sempre i cinque nomi su cui puntare nel Sassuolo andrei a puntare sull'Oriente e su Berardi al posto di Pinamonti vedremo chi giocherà probabilmente Defrell Alvarez ormai sembra essere quasi dimenticato da frattesi mi aspetto un po' di più l'ultima prestazione è stata sotto tono della difesa del Sassuolo come sempre io non mi fido mai passiamo poi a Milan Cremonese un Milan che a Roma ha fatto la sua partita ai punti forse meritava anche i tre punti la Cremonese arriva da un pareggio che serve a poco per la sua classifica io qui vado secco sul Milan ok il turnover ok la stanchezza però al di là di chi giocherà probabilmente uno tra le A o Giroud verrà lasciato a riposo se non entrambi vedremo ma al di là di questo io credo che questo Milan possa vincere contro la Cremonese anche al 60-70% del proprio potenziale quindi qui più che fare un discorso di nomi fare un discorso di blocco si può fare un blocco Milan abbastanza sì Tomorio è squalificato occhio anche qui la grafica deve essere ancora aggiornata nella Cremonese faccio fatica a consigliarvi dei nomi a San Siro al di là di un Valeri che difficilmente scenderà sotto al 6 anche qui tra l'altro gioca dalla parte più debole del Milan gli altri secondo me sono abbastanza difficili da schierare tornerà a Sernicola quindi qua anche manca l'aggiornamento però al di là di quello Cremonese forse questa giornata meglio evitare passiamo poi a Monza-Roma una Roma che continua a perdere pezzi dovrebbe mancare Belotti con Bulla infortunato quindi anche qui grafica tutta da aggiornare non fatevi influenzare ascoltate le mie parole più che guardare la grafica Matico è squalificato quindi veramente la Roma è una Roma a pezzi è un Monza che invece è in salute anche qui io non mi stupirei se uscisse fuori una partita dall'esito magari non dico imprevedibile ma inatteso è un Monza che arriva da 4 risultati utili consecutivi di cui 3 vittorie la Roma è un po' stanca e ne ha ben donde quindi occhio a sottovalutare il Monza occhio a non andare a schierare certi giocatori che ormai spero abbiate capito vanno messi sempre Carlos Augusto ciuria su tutti ma attenzione anche a Izzo in chiave modificatore e attenzione anche a Pessina rigorista passiamo poi a Verona Inter nel Verona tornerà invece Faraoni ok Verdi però è il suo momento io ve l'ho detto da due giornate prima consigliato nelle scommesse doppietta questa giornata consigliato tra gli underdog gol e anche contro l'Inter io Verdi lo andrei a schierare perché è il suo momento è il suo periodo siamo nella primavera di Verdi quindi è giusto andarlo a schierare sempre e comunque al di là di questo ovviamente l'Inter è in modalità qualificazione Champions quindi non può permettersi di perdere punti io credo che anche a Verona magari subendo un gol perché un gol ormai l'Inter ci ha abituato a prenderlo però soprattutto nel secondo tempo quando poi iniziano a fare i cambi entra la qualità dalla panchina l'Inter è sicuramente superiore e non mi meraviglierei se arrivassero altri tre punti per i neri azzurri passiamo poi a Empoli Bologna un Empoli che fa una fatica bestiale a fare punti si è fatta rimontare in dieci dal Sassuolo arriva da tre sconfitte consecutive Bologna invece che non ha fatto male contro la Juve anzi super Skurupski felice di avervelo consigliato Malino Posch mi aspettavo qualcosa in più Orsolini bene a dimostrazione che anche se nelle probabili formazioni lo danno in panchina noi lo dobbiamo schierare sempre non andiamo a cadere in queste trappole questi errori che fanno i vari siti sul fantacalcio le varie testate Orsolini si schiera sempre e punto quindi lo schieriamo anche a Empoli qualora anche fosse dato in panchina chi se ne frega lo schieriamo Ferguson Benino anche lui può dare di più e occhio però in casa Empoli perché magari qualche giocatore potrebbe anche essere interessante Cambiaghi ha fatto un bel gol Baldanzi qualche segnale di risveglio lo ha anche dato però diciamo che in questo momento paradossalmente l'Empoli mi convince più difensivamente che offensivamente andiamo a chiudere il cerchio con la partita spostata che era quella che doveva essere domani sera invece sarà giovedì sera Udinese-Napoli chi lo sa il Napoli andrà a festeggiare dopo tutti questi anni in trasferta il suo scudetto probabile probabile bisognerà capire se Spalletti deciderà di fare un mini turnover oppure se invece giocheranno sempre i soliti sicuramente in questo momento nel Napoli l'unico giocatore forse che io andrei a evitare è Zielinski che continua a inanellare una prestazione brutta dopo l'altra io l'ho già detto qualche settimana fa in chiave calcio-mercato se riuscissi e fossi nel Napoli a fare un sacrificio e lo scelgo io io sacrificherei Zielinski che ha ancora un certo appeal a livello europeo ma ormai da anni è lì che deve fare sempre quel salto e non lo fa mai quindi secondo me Zielinski anche al fantacalcio è stata abbastanza una delusione quest'anno l'Udinese è una squadra strana bisognerà capire se Beto guarisce da questa benedetta influenza bisognerà capire chi giocherà dietro eventualmente alla punta Samarzic l'ultima male Lovric già meglio Pereira alti e bassi è una partita dove il Napoli ovviamente parte favorito come in tutte quelle di quest'anno però la partita della Salernitana ci ha insegnato che non c'è nulla di scontato ovviamente poi domani e dopo domani torneremo un po' più nello specifico sui nomi nel dettaglio ed eccoci qui ragazzi queste erano le dieci partite di questo trentatresimo turno di campionato ricordatevi il discorso degli squalificati le grafiche non sono ancora aggiornate ascoltate le mie parole io vi saluto vi ringrazio mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis ci vediamo domani ore 13.30 con il consueto video delle top 11 a mezzogiorno domani troverete già la top 11 certezze qui sotto su Stadeo link in descrizione io vi saluto vi ringrazio ciao a tutti e alla prossima ciao ciao a tutti Sous-titrage ST' 501